Un modo per stare insieme in modo differente. Un appuntamento giunto ormai alla sua terza edizione tra la scuola di calcio dei giornalisti Salentini e lo staff dell'Unione Sportiva Lecce. Un momento conviviale di auguri tra una parte della stampa locale e la società giallorossa, tra sport a bracci e risa condivise. Presidente, l'ultima volta avete vinto, quest'anno per sicurezza vi siete portati la Terna e il VAR? Sì, ma abbiamo visto già che comunque il VAR non è che ci sia di grande aiuto, quindi è come non averlo portato praticamente. Un momento per ritrovarsi sotto le feste natalizie, in uno spirito sicuramente di pace, ma anche con un agonismo esasperato fino alla vittoria. Quest'anno sarà l'allenatore dello staff su Lecce? Sì, sì, allenatore, ma abbiamo uno schema unico, è Pallasce Vantone, è tutto più facile quest'anno. C'è Matteo Bottazzo che mi sta accanto. Matteo, Matteo vieni, fai un saluto, giustamente anche lui informissi. Eh? Sì. Matteo, hai cambiato ruolo da portiere a Tezio. Da portiere a Tezio, ma comunque mi rivolgerò al sindacato perché non si può giocare il giorno dopo le feste, è veramente una cosa drammatica. Mi rivolgerò a Lussi e a tutta la stampa sportiva.